Salve ragazzi, siamo effervescenti, non ci fermiamo mai, neanche oggi presentiamo un nuovo software, un nuovo progetto, una nuova realizzazione, chi ci segue da tempo ne aveva già sentito parlare, possiamo anticipare che non è che stiamo per realizzare, ma abbiamo già fatto il software che ci permette di automatizzare le giocate direttamente da Telegram, quindi in pratica tutte le varie, il mondo variegato dei grandi pronosti suggeritori di tips, tutti i seguaci con i loro adepti, i loro follower e tutto quello che prima era soltanto un messaggio che andava direttamente su Telegram e che ovviamente doveva essere recepito da chi in quel momento magari è stesso online, arrivava la segnalazione specialmente nell'ambito della live, le applicazioni live ovviamente sono maggiormente performanti e sono tra virgolette più difficili da realizzare per ovvi motivi, dicevamo prima appunto tutto il mondo variegato dei pronostici su Telegram ha attraverso il nostro, la nostra, non la genialità, ma la nostra intelligente, la nostra esperienza, la nostra presenta sul campo ha appunto un'applicazione reale sul fatto che l'input viene restituito in una giocata effettiva, quindi anche in questo caso in assento dall'operatore davanti al PC, gli arriva direttamente la giocata pronta per essere inviata per essere senza attività manuale, quindi il software spedisce e il software automaticamente dà il via per l'operazione della giocata e ovviamente se il suggerimento era stato positivo si monetizza in cash ad eventi, ovviamente seguendo l'indicazione sbagliata, la nostra, l'OS, non è la palanciana del guadagno certo, non è la certezza della vincita matematica, ma è la possibilità di realizzare quello che è il sogno di tutti, stassi non male come abbiamo sempre detto e vedere il suo, il proprio portafoglio, aumentare si spera, ma al limite anche soltanto muoversi, quindi alimentarsi, guardate la giocata che inizierà alle nove, partita, questa sono una serie di giocate, di suggerimenti inviati sul canale Ethereum, può essere adattato a qualsiasi canale Ethereum, quindi viene automaticamente gestito ovviamente dall'esperto di turno, segnalazione, arriva, invece di stare lì, come dicevamo prima, presenti davanti al PC, riceverla, aprire il programma, vedere se ancora quella quota è valida o non è valida, andare a giocare sperando nel frattempo non è successo niente, invece in automatico l'invio stesso della giocata, della segnaletica, della segnalazione, va di per sé già in eseguito, quindi abbiamo già l'operazione già fatta. Questo, in questo canale c'è la giocata live dell'Over 0.5 al frattempo, ha mandato il suggerimento e quindi in automatico si è prenotato subito per una partita che inizia appunto al 21, ma in una giocata live sarebbe stato l'invio e ovviamente l'eseguito, quindi qui siamo in accettazione, quando arriverà, quando partirà il live livello, automaticamente avremmo questo eseguito direttamente. Lo ritengo particolarmente interessante, perché rivoluziona tutto quello che abbiamo fatto finora, con lo studio di Telegram che era diventato appunto il mondo nuovo, tutti i grandi gurus erano trasferiti su Telegram, tutti i grandi pinguini del mondo andavano tutti su Telegram, qui abbiamo di fatto la possibilità di vedere se effettivamente questi suggerimenti sono vali o meno, abbiamo eseguito, non abbiamo tutte le belle, sofisticate o cavolate valli o value sul lungo periodo, qui abbiamo l'eseguito, quindi tanta fuffa, spero che scompaiano. Questo a integrale, questo non ve l'ho detto, però stiamo parlando in questo caso di Betfire, quindi la giocata sul Betfire, in questo caso è il Betfire.com, funziona nettamente anche sul .it senza nessun problema, quindi è il Betfire.com, sul 365 è quello che abbiamo già realizzato con il copier e del quale abbiamo parlato questi giorni, ma ovviamente è la stessa linea di cooperazione, ci tratta soltanto di trasferire questa, la piattaforma d'appoggio in pratica, non utilizziamo più ovviamente Hipposnif che è un'interfaccia di Betfire, ma occorrerà un altro tipo di interfaccia che vada a giocare direttamente sul 365, cosa che abbiamo già fatto, quindi ragazzi stiamo rivoluzionando il mondo del betting in generale, sia il betting in change, lo andremo a vedere, poi quando saremo in grado, l'ho anticipato questi giorni ed è la chicca che mi manca, quando saremo in grado di attivare contemporaneamente i due copiere, 365 Betfire e operare nella stessa partita con appunto due copiere con attaccati i vari conti che seguono, i conti cliente che seguono il master che ha inviato la giocata del betting in palma, bye bye, alla prossima, continuate a seguire il nostro canale perché ogni giorno come vedete ci sono novità e novità eclatanti, ciao ciao